Iolanda Bocelli, la mia opera rappresenta un percorso interiore dell'essere umano verso miglioramento della propria condizione in tutte le dinamiche esistenziali. Nella mia opera vediamo in fondo una parte neutra che è la zona del non cambiamento e lì ci sono persone che non vogliono lasciare la loro zona di comfort o temono i cambiamenti, ognuno ha il proprio alibi e da lì partono le scale che sono dei simboli, tutto quello che porta una crescita interiore della persona. Sono a doppio senso, si può salire ma anche scendere, il livello va mantenuto con determinazione e il desiderio di crescita sempre. La parte finale, che è il valore finale praticamente, l'ho fatta come una città scintillante dove la persona ha una soddisfazione di quello che ha raggiunto e ha un bellissimo concetto di sé in quanto è soddisfatto della propria crescita e del percorso fatto.